In Europa ci sono poche sorprese che potrebbero essere delle sorprese per me, ho visto tutto, ho visto così tante procedure, processi vari che francamente quello italiano attuale non mi sorprende. La candidatura verrà presentata, se non sbaglio, domani. Io sono invitato al Consiglio europeo di domani, almeno sono invitato a una parte del Consiglio europeo. Naturalmente l'alto rappresentante non solo deve essere oggetto di una decisione a livello di Consiglio europeo, ma anche serve l'appoggio del Presidente della Commissione europea, quindi affronterò la questione domani sera. Per quanto riguarda la sua prima domanda, io ho detto già in Parlamento che cosa ne penso. Per quanto riguarda la fiscal capacity, a mio parere, questo aspetto dovrebbe essere visto in rapporto con impegni un po' più forti, più spinti da parte degli Stati. Poi naturalmente dovremo vedere i vari risvolti di questa proposta quando verrà avanzata e ovviamente su queste basi potremo poi effettuare dei progressi. Quello che posso dire io sono il Presidente eletto, ma sarà poi la Commissione ad elaborare un programma dettagliato per le varie istituzioni, alla luce di quanto figura nel Trattato di Lisbona. Grazie. 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 Grazie.